Ultima riflessione, poi per me il ponte di Calusco d'Adda o i ponti in Liguria, i ponti in Puglia o i ponti di Logobuco in Calabria sono ugualmente importanti, però la legge istitutiva, e chiudo fra due minuti e conto di essere rimasto nei tempi, della società stretto di Messina è del 1971, io sono del 73, quindi siamo al 52esimo compleanno di una società che avrebbe dovuto costruire un ponte che ha già costato alcune centinaia di milioni di euro per studi e progettazioni, ci sono 8.000 tavole, probabilmente è il ponte al mondo più studiato senza essere costruito, quindi è stato sviscerato dagli ingegneri, il ponte lo faranno gli ingegneri, e io ne sono orgoglioso perché io incontro spesso per lavoro ingegneri italiani che vanno a cercare fortuna e a fare grandi opere in Turchia, in Cina, in Giappone, negli Stati Uniti, in Germania, il ponte sullo stretto sarà la dimostrazione che gli ingegneri italiani sono i migliori al mondo e non hanno da invidiare niente a nessuno, e saranno gli ingegneri turchi, cinesi, americani e tedeschi a venire qua. Che cosa è il ponte? È un ponte a campata unica di 3,3 km, quindi non ha tralicci in acqua, ha le due architravi sulla Sicilia e sulla Calabria, è un'opera green, perché non occorre uno scienziato per capire che se tu togli le migliaia di traghetti che attraversano lo stretto ripulisci le acque e secondo i calcoli che stiamo aggiornando risalenti a dieci anni fa si tolgono 140.000 tonnellate di CO2 emesse nell'aria, quindi a velocizzi, pensate ai siciliani che oggi devono prendere il traghetto e pagare 40 euro per andare a studiare, a lavorare o a farsi operare sull'altro versante e ai calabresi, ma soprattutto non è il ponte fra Messina e Reggio, è un anello Palermo, Roma, Milano, Berlino, Stoccolma, quindi è un asse che riporta l'Italia al centro, il Mediterraneo al centro e il ponte permetterà che il Mediterraneo non sia più narrato mediaticamente solo come terra di attraversamenti e di stragi, il Mediterraneo deve tornare terra di scambi, di cultura e di ricchezza e il ponte sarà assolutamente un anello fondamentale da questo punto di vista e ci metto tutto me stesso con riunioni quotidiane anche nel mese di agosto perché al padiglione del Meet che troverete al Meeting nell'estate 2024 spero e farò di tutto perché sia così che ci saranno le telecamere aperte sui cantieri che l'anno prossimo di questi tempi saranno aperti. Dopo 52 anni, l'anno prossimo di questi tempi l'obiettivo è avere la telecamera che collega Rimini con Messina e con Villa San Giovanni. Abbiamo, perché ho 50 anni ma non sono così indietro, abbiamo fatto per parare anche un video di 50 secondi e quindi penso possa essere tollerato che però spiega a me e a voi quale miracolo della modernità, della bellezza, della velocità, dell'ingegneria e della sostenibilità potrà essere il ponte degli italiani. Grazie Grazie